Ci ha fatto esultare, sognare, emozionare. Ma si sa, tutto cambia e la tecnologia lo fa rapidamente. Per questo la televisione italiana guarda avanti. È in arrivo la nuova TV digitale. Verifica la tecnologia della tua TV, le modalità e i tempi del passaggio. E se devi sostituire il tuo televisore o il decoder, scopri come accedere al bonus TV. Informati sul sito tramite call center o presso il tuo rivenditore di fiducia. Grazie a tutti.